Gli alimenti di origine vegetale sono i più protettivi per la salute, infatti il consumo di verdura, frutta, frutta guscio, legumi e anche semi, tutti questi alimenti si sono dimostrati avere degli effetti sia sulla incidenza di malattie cardiovascolari, sia su quella di malattie oncologiche che di malattie legate al metabolismo. Alcuni composti all'interno di questi cibi hanno l'effetto protettivo, uno dei più studiati è la fibra alimentare, pare che questo elemento, che è uno strano elemento perché non si digerisce completamente, abbia un effetto protettivo a livello intestinale, quindi abbassi il rischio di tumore al colon, ma anche di tante tipologie di patologie cardiovascolari. Grazie. Grazie.